ehi grande ehi grande ehi grande nooo avversari in dei grandi vecchies l'unico medicasso sulle pochette no mi piu' sono pazzo t'alleni anche si è masticciato però io diciamo si è masticciato però diciamo in forma se non si è mascolato se ne vedeva agire meno ma Cristo ci vediamo ma Cristo e se un po' è tronato e se un po' è tronato e se un po' è tronato ve ne vuoi spostare o no? no, allora ci vediamo ok se un po' è tronato e se un po' è tronato Sì, sì, sì. c'è qualcuno che mi deve in Italia con il risultato sull'arrivo la competenza in Italia la competenza nel risultato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso è il momento dei linei nazionali. Prego la regia di procedere. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' l'inizio della prima ripresa, first round. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.